Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del telegiornale dedicata all'incidente aereo in cui hanno perso la vita Giuseppe ed Emanuele Alabiso, padre e figlio che a bordo di uno Storm 300 stavano sorvolando l'isola di Stromboli per raggiungere Foggia. Nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia sui corpi, probabilmente le salme giungeranno a Gela domani. Vediamo. Sarà eseguita nelle prossime ore l'autopsia disposta dal sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Francesco Lomonaco, sui corpi di Giuseppe ed Emanuele Alabiso, padre e figlio, morti a causa di un incidente aereo mentre a bordo di uno Storm 300 stavano sorvolando l'isola di Stromboli in direzione Foggia. Ieri pomeriggio nella sala mortuaria del cimitero di Lipari da parte dei familiari è avvenuto il riconoscimento cadaverico dei propri cari. Le salme dovrebbero giungere a Gela, probabilmente Verdi. Subito dopo si terranno i funerali. Nel frattempo proseguono le indagini per accertare le cause dell'incidente che comunque si rivelano piuttosto delicate, anche perché questi piccoli aerei non sono in possesso della scatola nera. Per di più il velivolo è letteralmente colato a picco a 12 miglia a nord della vulcanica isola euliana. Tra le ipotesi più attendibili si pensa ad un problema tecnico o ad un malore del pilota. Poco prima che Emanuele Alabi, 26 anni, studente universitario, partisse con il padre alla volta della Puglia, lo stesso sul proprio profilo Facebook aveva scritto Direzione Foggia, tempo permettendo, parole che a distanza di qualche ora appaiono come un funesto presaggio. La madre, Enza Scollo, aveva scritto un messaggio Buon volo, amore mio, che Dio ti protegga, avvisami quando arrivi. Intanto si susseguono messaggi di cordoglio giunti in redazione. L'associazione Pionieri e Veterani Eni, sezione di Gela, si associa al dolore della famiglia Alabiso. La Fidas Adas sottolinea che nel tentativo di portare a compimento il suo volo della solidarietà Alabiso aveva dimostrato enorme sensibilità nei confronti della donazione del sangue. La sezione di Gela dell'Atmo, si legge in una nota, perde due carissimi amici e due paladini della solidarietà. Condoglianze anche da parte del Consiglio Direttivo della Pubblica Assistenza Procivis. Intimidazione a Niscemi, mani ignote hanno sparato sette colpi di pistola all'indirizzo della macchina di un assessore comunale. Il sindaco Francesco Larosa dice siamo pronti a dimetterci. Sentiamo. Ennesima intimidazione col fuoco a Niscemi contro un esponente della giunta comunale. Ieri sera mani sconosciute hanno sparato diversi colpi di pistola all'indirizzo dell'auto dell'assessore alla manutenzione, all'igiene e ai servizi cimiteriali. Giuseppe Giugno, 40 anni, parcheggiata sotto casa in via Borsellino. Due proiettili hanno raggiunto anche il portone dell'abitazione della vittima. Una spirale di violenza inaudita. Così il sindaco Francesco Larosa. A questo noi rispondiamo semplicemente con una parola che io uso, dire sempre, rifiuto e vado avanti. Se poi è fomentata da qualche soggetto, da qualche politico, da qualcuno esterno, poi questo è lo sfogo, questo è lo sfogo. Però noi continuiamo in territi ad amministrare questa città, questa città che è meravigliosa, questa città che noi amiamo. Se no, a quest'ora già avremmo detto basta. Nei mesi scorsi al sindaco hanno velenato i due cani che teneva nella sua casa di campagna l'assessore Carlo Tardi, lavori pubblici ed urbanistica, hanno fatto trovare una bottiglia incendiaria davanti al portone di casa a Gela. Al vice sindaco Giuseppe Meri, assessore agli affari generali, cultura e legalità, hanno danneggiato l'auto. E ieri sera, come dicevamo, i colpi di pistola alla vettura di Giuseppe Giugno, che è il braccio destro di La Rosa. Se c'è chi non ci vuole alla guida di questa città, ce lo faccio a sapere. Io e i miei collaboratori siamo pronti a dimetterci e ora che lo Stato si sveglie, che si prenda cura di niscemi, le cui grida di dolore, dice il sindaco, sono rimaste per troppo tempo inascoltate. Se questo deve essere un segnale per far muovere chi di competenza, siamo disponibili anche a questo. Amministrare per forza non va bene, amministrare assieme va bene, noi siamo per amministrare assieme. E quindi c'è anche questa possibilità. Poi in un momento di comportamento si può dire di tutto e di più. Oggi ho avuto i primi incontri con le forze dell'Ordine che ci hanno dato la loro solidarietà e sono disponibili e sono presenti nel territorio. Io ringrazio Maggiore Marra stamattina e lui al commissario Monaco ieri sera. Si alza il tiro un po' tutti. Vuol dire che se qualcuno alza le barricate, noi continueremo con la testa di riete finché non sfonderemo anche questa porta che è quella della trasparenza, della legalità, del vivere comune. In un momento in cui l'iscienio si sta svegliando tutte le proprie capacità intelligenze, in un momento in cui la cultura sta prendendo forma attraverso la realizzazione del museo, della case del volontariato, del bene confiscato alla mafia, non possiamo abbassare per nulla i toni. Anzi, riterremo ancora più alti perché abbiamo l'esigenza di cambiare volto e di iniziare una nuova storia. Nel condannare il grave atto intimidatorio subito dall'assessore al comune di Niscemi Giuseppe Giugno si esprime solidarietà allo stesso e si denuncia la preoccupazione in città per queste azioni che vanno a turbare sia la serenità personale e familiare di chi è oggetto di questi fatti incresciosi che quella di tutti i rappresentanti istituzionali e sociali locali. Lo scrive in una nota il Partito Democratico di Niscemi. Chiediamo agli organi di polizia e alla magistratura di intensificare il loro operato per garantire sicurezza e tranquillità sia ai rappresentanti istituzionali che a tutta la nostra comunità. Il Partito Democratico si attiverà tramite i propri parlamentari ad investire sulla questione sia alla Commissione regionale antimafia che quella nazionale per le valutazioni e le azioni del caso. Un altro duro colpo nei confronti delle cosche mafiose. È stato liberato un territorio gravemente oppresso dall'imposizione di un odioso sistema prettamente mafioso debellandolo sul nascere. Renzo Caponetti, presidente della locale associazione Antiracket, Chetano Giordano, è fiero del risultato ottenuto dal blitz eseguito da polizia e squadra mobile che hanno decapitato una organizzazione mafiosa legata al clan Rinzevillo e Manuello. I 22 arrestati, secondo l'accusa, con atti intimidatori, avevano estromesso imprenditori dal mercato o dalla raccolta di plastica dismessa dalle serre. Tutta l'associazione Antiracket, indestata a Chetano Giordano, si muove sempre verso una direzione, cioè quello di convincere ancora di più l'imprenditore a denunciare, perché oggi non ci sono più alibi. Con questa ennesima operazione fatta dalla polizia e dalla squadra mobile di Caltanissetta, dalla DDA e dal dirigente del commissariato EPS di Gela, dottor Francesco Marino, si è arrivati veramente a un risultato eccellente, perché sul nascere si è sgomendata, è stata annendata, annullata, una organizzazione di malavitosi, queste mafia, signori, e aveva messo in condizione degli imprenditori di non poter svolgere il loro lavoro serenamente. Ma è stato facile per lei convincere gli imprenditori a denunciare oppure ci sono state anche delle resistenze? Non è mai facile superare la paura e noi abbiamo il rispetto per tutti coloro che hanno paura. All'inizio, i primi due, c'è stata un pochettino di difficoltà, ma coinvolgere gli altri imprenditori hanno dato ancora più forza a questa operazione, perché più si è, meglio si riesce a superare le difficoltà. Quindi siamo riusciti nell'indendo. La denuncia collettiva? Lei diceva che è stato liberato un territorio, ma è stato liberato del tutto oppure ci sono ancora delle zone da liberare? Intanto sono felici e gioiscono tutti gli imprenditori liberati con questa operazione. E quindi per un certo numero di anni, fino a quando non ci saranno, speriamo di no, altre novità brutte, potranno lavorare, vi assicuro, potranno lavorare sicuramente sereni e soprattutto sicuri che a sostegno sempre ci sarà l'associazione Antiracchete. Sia a sostenerli perché dovremo affrontare dei processi, andremo in tribunali, ma soprattutto anche avranno il conforto del ristoro attraverso la legge 4499 con soldi che saranno sicuramente, avranno bisogno tutti gli imprenditori, avranno bisogno per tutti i danni che ha subito in un anno e mezzo di non aver potuto lavorare. All'associazione Antiracchete per il brillante sostegno fornito alle vittime sono giunti i complimenti del ministro degli interni, Angelino Alfano, e del capo della polizia, Alessandro Panza. Denunciate senza ombre di dubbio, senza problemi, con serenità e tranquillità. Noi siamo dalla parte giusta, loro sono i mafiosi e loro devono pagare le conseguenze. 36 scarpe contraffatte con il marchio Nike, Hogan, Converse, Adidas, 4 borse, 486 DVD, 363 CD musicali, 213 CD giochi, un portafogli, un autoradio, un altoparlante, una batteria d'auto che li alimentava. E quanto ha sequestrato ieri mattina la polizia municipale di Gela al mercato settimanale di Marchitello. Gli ambulanti abusivi che vendevano la merce sono scappati alla vista dei caschi bianchi in quanto per la quantità del materiale sequestrato sarebbero stati sottoposti all'arresto. Nella fuga gli stranieri hanno lasciato sulla strada anche una copia del Corano. I dati del blitz già trasmessi alla procura sono stati illustrati questa mattina dal commissario capo Carmelo Marchese alla presenza del sindaco Domenico Messinese e del dirigente comunale Patrizia Zanone. Sentiamo. Noi abbiamo fatto questo intervento così per contrastare il fenomeno della contraffazione e che questa contraffazione praticamente è un danno all'economia sia per quanto concerne l'impiego diciamo nei confronti proprio delle ditte che sono produttrici di queste diciamo sia di scarpe, borse e altro sia nei confronti anche dello Stato per l'erario perché non vengono pagate nessuna tassa. E poi diciamo abbiamo tanto preso tanti DVD, abbiamo preso altre cose come piraterie in quanto non avendo il marchio della CIAE, la società italiana, autore ed editore. Quindi questo diciamo abbiamo fatto la comunicazione, o meglio stiamo per trasmettere la comunicazione all'autorità giudiziaria, è stato posto a sottosequestro. Il tutto è stato fatto nei confronti di ignoti in quanto questi eccarciari comunitari hanno preferito darsi alla fuga perché per la quantità era previsto l'arresto in fragranza. È giusto che coloro che entrano nel mercato possano poter vendere i loro prodotti ma è giusto che padano le tasse che sono previste per la gestione dell'aria. Quindi tutti gli abusivi sono contrastati perché è chiaro che non possiamo permetterci che all'interno del mercato si vanno a introdurre dei personaggi che possono vendere non soltanto senza autorizzazioni ma anche nella merce non legale. Infatti ieri ci sono stati due sequestri, due sequestri di merce contraffatta che è stata immediatamente sequestrata. Questo è un reato penale, vorrei ricordare, ed è per questo che si è attivata tutta la procedura per poter effettuare il suo sequestro e fare le comunicazioni all'autorità giudiziaria. Sottoposto alla misura della detenzione domiciliare è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione a parlare con altri due soggetti pregiudicati. È stato arrestato dai carabinieri e ricollocato ai domiciliari. Il protagonista è il gelese Mariano Bonvissuto di 36 anni. Alla vista dei militari l'uomo si è precipitato di corsa a casa fermandosi dinanzi al portone. Adesso occupiamoci dell'incontro che si è svolto al plesso Cantina Sociale dell'Istituto Comprensivo Gele e Butera nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Vediamo. Donna e vita è stato il tema al centro dell'incontro che si è svolto al plesso Cantina Sociale dell'Istituto Comprensivo Gele e Butera nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L'evento è stato organizzato in collaborazione con l'Unione Donne in Italia. Oggi volevamo essere presente e non disattendere questa giornata particolare che poi oltretutto è una giornata internazionale quindi in tantissime parti del mondo c'è una riflessione da parte delle donne sulle donne più sfortunate rispetto a noi che abbiamo fatto grandi conquiste sociali. Nella scuola abbiamo già iniziato un percorso in questi giorni facendo vedere un film particolare che ho scelto personalmente io che è uscito dieci anni fa e non ha avuto una grande fortuna il cui titolo è Osama e il film narra la storia di una bambina di un paese medio orientale costretta chiaramente ad andare sposa ad un uomo molto più grande di lei e quindi in realtà subire diciamo una violenza legalizzata proprio perché l'attenzione quest'anno voleva essere sul fenomeno, sul dramma meglio, delle spose bambine perché i ragazzini lo vedono più da vicino e sono stesse loro coetanei, noi stiamo parlando di una scuola media che però vivono un dramma particolare e che per fortuna i nostri non vivono. Il presidente dell'Unione Donne in Italia Giovanna Cassara. Riteniamo che sui ragazzini, sui adolescenti bisogna più che altro intervenire per far capire a loro, se ci riusciamo, che essere violenti contro le donne da parte degli uomini non è una cosa bella perché spesso è il frutto di dinamiche sociali, culturali, anche antropologiche distorte che vogliamo assolutamente disattendere e contrastare. Quindi anche noi insieme alla scuola abbiamo voluto dare questo contributo alla sensibilizzazione portando avanti un processo che già è iniziato alcuni anni fa anche a livello istituzionale e che non bisogna assolutamente trascurare. E il consorzio Gela Centro di concerto con l'Unione Donne Italiane dice no alla violenza sulle donne. Oggi tutti i negozi del consorzio Gela Centro hanno affisso presso le proprie vetrine una vetrofonia raffigurante la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Solo un piccolo uomo usa violenza sulle donne per sentirsi grande. Una pagina nera della cronaca italiana, una delle tantissime che purtroppo si registrano nel nostro paese, è la storia di Federica, adolescente il cui nome è legato al tragico epilogo della sua vita finita sulle sponde di un lago. Federica, un adolescente che come tutte le sue coetanee si apre alla vita, ai primi amori, ai sogni, alle speranze e alle ambizioni che oggi restano soltanto nel ricordo di chi l'ha conosciuta anche soltanto attraverso un servizio giornalistico. Questa storia è diventato un libro presentato oggi al liceo socio psicopedagogico di Gela su iniziativa della FIDAPA. La FIDAPA vuole dare un segnale tangibile della sua presenza e della capacità appunto di sensibilizzare l'opinione pubblica. È giusto che i ragazzi partecipino a queste conferenze che poi la nostra è stata una conferenza, presentazione di libro, che parla appunto il libro di Massimo Mangiapelo su Federica e Federica la ragazza del lago conosciuta così grazie appunto alla cronaca. Questo momento particolarmente importante perché ci vede insieme a tantissime altre gente che si sta impegnando su questo fronte, ci vede impegnati e motivati a dimostrare che la nostra presenza ha una sua validità. Noi vogliamo fortemente far sentire questo problema. Non bisogna solamente ascoltare parole vane o dire cose che poi cadono, scadono appunto nella retorica. Vorremmo che ci fosse una coscienza, che i ragazzi prendessero coscienza di questo problema. Quando parlo di ragazzi non parlo solo di donne ma soprattutto di uomini. Questo ci vuole quello che noi sosteniamo, l'impegno sociale che contraddistingue la nostra casa editrice, che ci vede anche impegnati con coraggio in pubblicazioni di altro genere che non questo di Massimo Mangiapelo che ci è arrivato attraverso un'agenzia letteraria e che poi abbiamo trattato direttamente con l'autore. Abbiamo visto che era un argomento molto importante, un argomento che già in casa editrice noi abbiamo trattato con altri autori e quindi abbiamo voluto contribuire con il nostro impegno e con la nostra professionalità a quello che è il messaggio che bisogna lanciare nella comunicazione per quanto riguarda quello che dovrebbe essere la difesa nei confronti delle donne. Sarà presentato oggi in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne il libro di Emma Laspina dal titolo Come fossi una bambola, appuntamento previsto alle 17.30 nella sala consigliare del comune di Gela. L'iniziativa è del Soroptimist dell'Inner Will della libreria Mondadori in collaborazione con il comune. Domani alle 18 nell'aula magna dell'istituto Quasimodo si terrà la presentazione dell'assilloge poetica l'assenza di Alfonsina Campisano Cancemi, autrice catanese. L'iniziativa è promossa dal convegno di cultura Maria Cristina di Savoia, preseduto da Flora Montana. Approdano anche a Gela al centro Lilium Benessere le nuove frontiere dell'estetica. Uno staff di specialisti all'avanguardia ha infatti ideato un rivoluzionario laser, il Diod System. Si tratta di un'apparecchiatura di ultima generazione, il campo dell'epilazione. È un metodo innovativo, è indolore ed è molto più veloce rispetto a quanto non lo sia stato fino adesso, la luce pulsata con cui noi lavoriamo da quasi 11 anni. Quindi abbiamo voluto presentare qua a Gela in queste due giornate, oggi 24 e domani 25, questa nuova apparecchiatura e oggi e domani siamo qui per farla provare, dare una consulenza a tutti coloro ai quali fossero interessati. Quante sedute occorrono per ottenere dei risultati? Chiaramente dipende dal tipo di pelo. Si fa una consulenza infatti per vedere da persona a persona, da zona a zona, quante sono le sedute. Però mediamente le sedute necessarie sono inferiori rispetto a quanto non sia stato necessario con la luce pulsata. E' quello che è importante comunque che è un metodo assolutamente innovativo va a risolvere una serie di problematiche, ad esempio chi soffre di follicoliti, chi ha problemi comunque di allergia o comunque di reazioni con la Gela, è un metodo assolutamente rivoluzionario ed è sicuramente indicato anche per le persone più giovani, quelle che iniziano anche a trattare l'epilazione nel giusto modo. E' corretto dire che se si pensa ad un trattamento nel corso dell'inverno per l'estate prossima certamente l'epilazione sarà un pensiero in meno? Assolutamente sì, questo è il periodo giusto per iniziare con l'epilazione. Il periodo ideale è l'inverno perché abbiamo il tempo per trattare in tutte le zone. Il pelo è assolutamente alternativo agli altri metodi perché è molto 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 migliore rispetto agli altri. Chi lo prova assolutamente lo potrà constatare. Ci sono dei soggetti che non possono fare questo trattamento? Allora, a dire il vero, in questo caso specifico la seradiodo va ad affrontare anche delle situazioni con cui non si poteva intervenire con la luce pulsata, ad esempio i fototipi più scuri in cui avevamo qualche difficoltà perché i parametri dovevano essere abbassati. Invece con la seradiodo interveniamo anche su questi soggetti. Chiaramente tutti i soggetti, uomini e donne che volessero provare questo trattamento possono recarsi da lì, ma praticamente da oggi è attivo questo nuovo trattamento assolutamente rivoluzionario e che è consigliato a tutti. Sì, da oggi in poi noi saremo qui a disposizione per fornire una consulenza gratuita quindi facciamo un check-up ma anche una prova a chi volesse. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. La dignità del Reo e il suo inserimento è il titolo del convegno che si svolgerà a Gela venerdì 27 novembre dalle 15.30 presso il Palazzo di Giustizia e sabato 28 novembre dalle 9.30 presso l'Aula Magna del Liceo Classico Eschilo. Gli incontri sono stati organizzati dal Lions Club di Gela presieduto dall'Avvocato Antonio Gagliano in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Gela e saranno spunti di riflessione sul volume di Giovanni Maria Flick, Elogio della Dignità. Tanti gli ospiti che interverranno nelle due giornate, i cui lavori saranno preseduti venerdì dal Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Salvatore Cardinale e sabato da Don Giuseppe Costa, Direttore della Libreria Editrice Vaticana. Venerdì gli ospiti saranno introdotti dal Presidente del Tribunale di Gela, Paolo Fiore, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Ignazio Emmolo e dallo stesso Presidente del Lions Club, Antonio Gagliano. Interverrà il Docente di Diritto Pubblico dell'Università di Palermo, Lillo Fiorello e l'Avvocato Giacomo Ventura, il Presidente della Camera Penale di Gela e il Procuratore Lucia Lotti, il Docente di Diritto Costituzionale Angela Musumeci e l'autore Giovanni Maria Flick. Sabato, dopo i saluti del Sindaco Domenico Messinese e del Coordinatore del Lions Club Francesco Freni Terranova, relazioneranno il Direttore della Casa Circondariale di Gela, Gabriella Di Franco, l'Avvocato Salvatore Psaela e il Dirigente Scolastico, Gioacchino Pellitteri. Stilato è il programma per la festa dell'Immacolata Concezione, prevista per martedì 8 dicembre prossimo. Si comincia sabato 28 novembre alle 16.30 con lo scampanio festoso e lo sparo di 12 colpi a cannone annunziato alla città. Alle 18 l'Eucarestia presieduta da Don Raimondo Giammusso nel 25esimo anno di sacerdozio e alle 20.30 veglia di avvento e solenne lucernaio, animata dal Movimento Giovanile San Francesco. Prenderà il Viel 15 dicembre prossimo la stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Gianni Nanfa, Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, Lasciate Libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. L'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costerà 50 euro, mentre il singolo biglietto costerà 15 euro. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Arriva il grande jazz a Gela, appuntamento al Teatro Comunale Eschilo. Venerdì 11 dicembre Francesco Caffiso in duo con Mauro Schiavone. Giovedì 17 dicembre Antonella Ruggero, venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato. L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino. Dalle 17 alle 20.00 per informazioni bisognerà chiamare i numeri di telefono 0933 911 892 oppure 345 5880 580. C'è lo spettacolo al termine della nostra edizione del telegiornale. Continua al Teatro Comunale Eschilo la stagione teatrale sabato 28 novembre alle 17.15. e alle 21.15 Federico Buffa porterà in scena le Olimpiadi del 1936. Il botteghino lo ricordiamo è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. Termina qui il nostro telegiornale. Grazie per la cortesa attenzione, per averci seguito fin qui. Ma vi ricordiamo che notizie, approfondimenti e servizi sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it. Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è costantemente aggiornato. Grazie a tutti e arrivederci.